SIGURO CHE È GIANCAR PRONTO GIANCAR, SEI TU? Ah, ciao Paolo! Che è successo? Dimmi tutto. Hanno tutti bisogno di una famiglia e per fare un voi sareste una famiglia ideale. Non ho mai preso in considerazione l'idea di adottare una bambina. Ma stai scherzando? Vuoi comprare la bambina? Lei si chiamerà Laila. Lei si chiamerà Laila. Lei si chiamerà Laila. Grazie a tutti.